Tutte carte diverse, mazzo regolare, faccio vedere anche i nostri amici, tutte carte diverse, giusto? Ora io mescolo le carte e ti chiederò semplicemente, da un altro documento mescolato, di pensare a una carta che vuol dire che te le mostro tutte, pensare a una. Ok, fatto. Ce l'hai? Sì. Rossa? Sì. Di cuori? Sì. Ti piace come carta? Vabbè, io la scelta. Ok, per la prima volta, che carta era? 8 di cuori. Signore e signori, 8 di cuori. Perfetto. Ancora una volta, perché pensano che magari sia fatura, giusto? Ok, riapriamo, no? Sì. Te ne apro in maniera più aperta possibile. Ok? Mh. La ragazza è tutta aperta. Pensare a una. Sì. Ce l'hai? Sì. Nera? No. Ok. Una carta spigolosa, può essere spigolosa? Sì, sì. Ha degli spigoli la tua carta, vero? Sì, sì. Io ho degli spigoli. Una carta pari, vero? Non so se... Che carta era? Gerte di cuori. Signore e signori, getta.